Di fatto era una vera e propria centrale di concentrazione di autoveicoli di provenienza illecita, a vario titolo, che venivano cannibalizzati, di fatto smontati, per poter attivare un mercato illegale di pezzi di ricambio. Specchietti, paraurti, ma anche navigatori ed airbag, insomma, smontavano di tutto e di più d'auto di lusso, molte delle quali rubate per poi trapiantare questi pezzi all'interno di altre vetture. Il tutto avveniva all'interno di una capannone dismesso in casentino, questo quanto scoperto dai carabinieri forestali. Il blitz è scattato ieri alle prime luci dell'alba. In azione 30 tragenti e militari, assieme alle unità cinofile della polizia locale di Arezzo, che hanno battuto palmo a palmo da Rassina sino a Badia Prataglia. Ed è proprio a Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, che è stata trovata la centrale industriale dell'attività illecita, all'interno di un capannone oltre 50 auto, per un valore approssimativo di 2 milioni. Mezzi che ufficialmente avrebbero dovuto essere esportati, almeno così dicevano falsamente i certificati che venivano esibiti, invece erano presenti in casentino per poter essere poi distribuiti a pezzi nel territorio nazionale. Cinque le persone denunciate, tutte di origini romene, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal PM Angela Masiello. Le accuse per loro vanno dal riciclaggio alla ricettazione, dal falso in atto pubblico all'esercizio abusivo della professione meccatronica e alla gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Capannone il sottosequestro, così come è stata sequestrata tutta la documentazione.